ed eccoci di nuovo qui salve a tutti e ben ritrovati dal vostro joe è passato praticamente pochissimo tempo dal videopullo che ho fatto dove appunto abbiamo tentato di trovare l'ex di arsiela e devo dire che purtroppo il risultato non è stato un granché però però dato che io avevo farmato veramente tante summon board in precedenza e avevo comunque accumulato punti veramente tantissimi punti ho fatto una piccola diciamo una piccola indagine e sono andato a vedere quali personaggi non avevo ancora portato a 1800 punti in modo tale da poter ottenere i bauli ebbene sì ne ho portati su parecchi veramente non pensavo di avere ancora così tanti personaggi da poter portare su con i punti per i bauli infatti come potete notare siamo ritornati a ben 54 ticket siamo saliti anche con le gemme infatti come potete vedere siamo quasi a 30k di gemme e quindi cosa voglio fare in questo video facciamo la seconda parte del pull quindi pulleremo questi altri ticket e non so se voglio fare una multi dato che ho 27k vorrei scendere a 22 e poi magari continuare a risparmiare vediamo non lo so sono abbastanza indeciso voglio voglio riflettere un attimo su ciò che effettivamente posso fare all'interno di questa batch comunque cominciamo direi di cominciare subito con questi ticket vediamo se magari con la seconda tornata di ticket possiamo avere un po' un po' più di fortuna attenzione un connecting sappiamo che il connecting prima mi ha portato male però 35 di rinoa però il connecting in questo caso si è rivelato nuovamente affidabile quindi forse adesso i connecting possono parlarci e possono dirci qualcosa vedremo vedremo un altro connecting anche se non credo perché troppo di fila infatti infatti ancora ancora c'è qualche come dire c'è qualche titubanza da parte di questi connecting che non vogliono farmi farmi saltare di gioia però diciamo che già con uno ci hanno dato un po' di manforte addirittura la 15 così di gitan senza preavviso la 15 anche di rinoa così senza preavviso altro connecting che però stavolta ho fiutato non essere un connecting di quelli di cui ci si può fidare ecco ho trovato anche la 15 di prish quindi ho kit completo per quanto riguarda prish cosa che sinceramente non mi interessava a dire la verità visto che ripeto l'unico obiettivo tecnicamente che avrei qui è appunto la ex di arsiela la 35 volendo potrei anche prenderla con i red token quindi non è quello il problema attenzione però connecting su orb silver boom l'abbiamo trovata signori l'abbiamo trovata ex di arsiela ci siamo finalmente ragazzi finalmente l'abbiamo trovata ok veramente mi interessava parecchio questo personaggio ho visto che le meccaniche sono molto interessanti poi abbiamo anche la sua enhancement board quindi direi che va assolutamente bene quindi blocchiamo subito questa ex la 35 la prendo con i red token non voglio andare deep per quanto riguarda i ticket ma questi ticket li voglio andare a spendere su saver perché saver mi ha praticamente lasciato qui con praticamente con il desiderio qui sulla gola quindi decido di utilizzare questi ultimi ticket su saver sperando di ottenere anche la sua ex veramente da un lato lo spero perché saver comunque ho praticamente tutto cioè ho gli artefatti perfetti ho tutto il kit quindi in futuro potrebbe rivelarsi molto utile come personaggio ha una ex che tra l'altro si ricarica in maniera velocissima quindi a dire il vero l'ho utilizzato come support come friend support e l'ho rivalutato totalmente anche se giustamente per chi possiede jack attenzione un connecting per chi possiede jack saver è un po' forse obsoleto jack comunque come dps è senza ombra di dubbio più forte decisamente più forte fa tantissimi danni in più la ex si ricarica anche abbastanza velocemente poi ricordiamoci che dopo l'ex possiede la free skill quindi diciamo che sono tutte meccaniche che danno soddisfazione all'utilizzatore di jack quindi devo dire che avere jack al posto di saver è ben cosa diversa nel frattempo mi arrivano le notifiche purtroppo scusatemi se sentite questi suoni così improvvisi abbastanza violenti ma non posso farci nulla sono contentissimo di aver ottenuto arsiela sto spendendo veramente un sacco di ticket per se per ora che ci penso perché comunque considerando tutti quelli che ho speso prima e tutti quelli che ho speso adesso sono veramente veramente tanti oddio attenzione altro connecting da orb silver vediamo trollino ovviamente è inutile dire che dopo attenzione altro connecting ma non credo infatti è inutile dire che dopo questo diciamo chase disperato anche alla ricerca di saver sicuramente non andrò più avanti e mi fermerò mettendomi mettendomi il cuore in pace era una cosa che volevo fare se avessi trovato arsiela cosa che fortunatamente siamo riusciti a fare quindi ormai ci provo ormai tento il tutto per tutto poi dopodiché si conserva si ritorna a farmare e si conserva per il prossimo personaggio penso che sia la cosa più giusta da fare anche perché comunque adesso ci saranno personaggi che devono essere inseriti all'interno del gioco abbiamo un altro evento va beh abbiamo un altro evento personaggio che deve arrivare a fine mese nel frattempo un'altra ex di lenna così è già la seconda che mi esce oltre a quella che ho trovato quindi già è la terza ex di lenna che mi esce da sto banner ok grazie grazie gioco veramente quando vuoi trollare tu veramente come trolli tu non trolla nessuno e per il resto si voglio conservare comunque tutto quello che arriverà per quanto riguarda le gemme soprattutto i ticket sapete benissimo come sono fatto i ticket io li butto quasi sempre sui banner ecco però mi stanno uscendo parecchio oro cosa che sinceramente non mi dà fastidio cosa che non mi dà assolutamente fastidio mi stanno uscendo veramente tante oro che sono tutte power stone però va bene va bene ci abbiamo provato safer ovviamente non vuole far parte della mia squadra perché non vuole far parte dopo quasi 300 ticket credo che ci ho buttato su safer non vuole assolutamente far parte del mio team soddisfatto di aver trovato arsiela quindi adesso non farò altro che maxarmela perché lei probabilmente sarà il mio debuffer barra dispeller fino a quando non arriverà fino a quando non arriverà kefka avevo anche vaniglia a dire la verità ragazzi però vaniglia sinceramente mi piace come personaggio però se dovessi scegliere tra vaniglia ed arsiela preferisco arsiela ha un axe molto più veloce come ricarica come danni sono sicuro che riuscirà a fare molto molto di più quindi non è assolutamente paragonabile il tipo e lo stile di personaggio poi avrò modo comunque anche di provarla e a questo punto non mi resta altro che aspettarvi a questo punto stasera su twitch visto che ci faremo summon board probabilmente faremo anche la chaos in live perché probabilmente la farò in live con arsiela la proveremo la faremo viola perché ovviamente la faremo viola e vedremo anche come si comporta quindi io vi ringrazio al solito per essere stati con me ce l'abbiamo fatta e detto questo io vi saluto e vi aspetto ovviamente stasera su twitch e vi ringrazio al solito